Grecia Colmenares è tra i naufraghi dell'Isola dei famosi 2019. Protagonista indiscussa delle telenovelas più amate tra gli anni 80 e 90, spera di Grecia Colmenares è la guest star indiscussa dell'Isola dei famosi 2019. Protagonista amatissima delle principali telenovelas prodotte tra gli anni 80 e 90, è nota al pubblico televisivo soprattutto per il suo ruolo in topazio Tra i suoi personaggi più amati ci sono però quelli interpretati nella sop'opera dal titolo Manuela, dove si è calata, contemporaneamente, nei panni di due sorelle identiche, una perfida, l'altra dotata di gran cuore Di recente, per omaggiare il pubblico italiano, l'attrice è stata ospite nei principali salotto di Canale 5 Dove ha presenziato in compagnia del fidanzato Shando Eric Luna, nelle ultime settimane alcune indiscrezioni hanno messo in dubbio il loro rapporto, anche se l'attrice ha recentemente confermato che il loro rapporto è oggi più solido che mai Che si tratti di una crisi o meno, di questo e di tanto altro si parlerà a partire da questa sera, quando l'amatissima attrice entrerà a far parte del cast del reality di Canale 5 Grecia Colmenares, voglio che il pubblico mi conosca diversamente. Attrice da quando aveva solo 13 anni, Grecia Colmenares ha fatto del suo lavoro una vera e propria passione Oggi, infatti, grazie ai suoi ruoli nelle principali telenovelas degli anni Ottanta, è uno dei volti più amati in tutto il mondo e, a partire da questa sera, è pronta a rispolverare quella popolarità con la partecipazione all'isola dei famosi 2019 L'attrice, infatti, è determinata a farsi conoscere per ciò che è realmente, regalando a tutto il suo pubblico un'immagine di sé fino a ora ignota e più Voglio che mi conoscano come persona e non solo attraverso i personaggi che interpreto nelle telenovelas, ha rivelato la naufraga in un'intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni Ma riuscirà veramente a far prevalere la sua personalità e a scacciare via il fantasma di quei personaggi tanto amati che negli anni le hanno donato la popolarità? Punto sull'isola Sarò sincera. In vista della sua partenza all'isola dei famosi 2019, Grecia colmenare s'ha confermato di non essere per nulla spaventata da ciò che potrebbe incontrare sul suo percorso Ciò che di più teme, infatti, è solo la lontananza dalle persone a lei care, in particolare del suo amato figlio Gianfranco Mi mancherà abbracciare mio figlio Gianfranco, Shando, la mia famiglia e gli amici, ha ammesso l'attrice raggiunta da TV Sorrisi e Canzoni, dove ha inoltre rivelato che sull'isola si lascerà guidare dalla fede Oltre al suo lato religioso, in Honduras porterà tutte le sue qualità più importanti, fra le quali spicca senza ombra di dubbio la sincerità Ma proprio la sua schiettezza, conferma nell'intervista rilasciata poco prima di partire, potrebbe essere il suo tallone d'Achille, dal momento che i suoi compagni di avventura potrebbero non sopportare la sua schiettezza Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like